Usare una fotocamera analogica per esercitarsi e rompere la noia. Questo senza dubbio è una cosa molto intelligente, ma ovviamente non tutti ne hanno una. Allora un'ottima alternativa a una camera analogica è usare la nostra digitale ma con una scheda di memoria molto piccola. Sono difficili da trovare ma se cerchiamo qualcosa esce fuori. Schede da 1 o 2 giga o addirittura meno, che ci permettono di fare una decina di scatti, 30-40 massimo. Montare un obiettivo fisso, bloccare la focale del proprio zoom. Si può persino usare del nastro adesivo per assicurarsi di non muoverla. Poi bisogna obbligarsi a non guardare le foto dopo averle scattate. Solo quando si sarà davanti al computer si potranno vedere. Questo esercizio molto utile ci obbliga a pensare e a prenderci del tempo prima di scattare. E tu conosci altri esercizi interessanti?